Raffiche vicine ai 100 chilometri orari, vento impetuoso, temperature che hanno sfiorato i 26 gradi, metà febbraio all'insegna del forte vento da sud-ovest che si ripete dopo pochi giorni e con la puntuale violenza e il libeccio o garbino dall'arabo garbi che significa occidentale. Le conseguenze sono note, rami spezzati, pericoli costanti per la caduta di tegole, vasi, oggetti vari in balia delle Raffiche. Il garbino è ancora più impetuoso quando si incanala nelle valli prendendo ulteriore forza nella sua corsa verso l'Adriatico. Unico pericolo sventato quello delle mareggiate visto che il libeccio in Adriatico non gonfia il mare con onde basse forti correnti ma nessuna minaccia per la costa. Nella Valle del Sangro per 24 ore non c'è stata tregua. A Fossacesi è stata chiusa la provinciale di Viale San Giovanni in Venere al lavoro protezione civile e polizia municipale. La settimana scorsa cadde un enorme cipresso proprio sulla strada nei pressi del villaggio degli studi. E in Val di Sangro, nelle enorme piane, sono divampate le fiamme dalle prime ore del mattino al confine tra Fossacesi e Torino di Sangro. Ettari di boschi, canneti, macchia mediterranea sono andati in fumo con incendi a ripetizione, sospinti e alimentati proprio dal Garbino. Al lavoro i vigili del fuoco di Lanciano che successivamente hanno chiesto l'intervento dei colleghi di Vasto. Siamo poche squadre oggi, siamo pieni di interventi. Tanti incendi? Sì, anche incendi. Anche incendi. Buon lavoro! E pochi dubbi sull'origine dolosa dei roghi ravvicinati e in tre punti distinti. Il sospetto è che qualcuno li abbia innescati, addirittura per allontanare la ricca colonia di cinghiali che proprio nella fitta macchia ha trovato l'abitat ideale, danneggiando le culture di cui la valle è caratterizzata tra alberi da frutto, vigneti, orti. I vigili del fuoco solo nel primo pomeriggio sono riusciti a domare l'incendio. Il Garbino nelle prossime ore all'intera la presa. Grazie a tutti.